Negli ultimi due anni a causa della pandemia da Covid-19 è stata registrata una significativa diminuzione degli screening del carcinoma alla mammella. Purtroppo la paura del contagio ha impedito a molte donne di fare prevenzione sottovalutando l'importanza dei controlli. Esami diagnostici come la tomosintesi con mezzo di contrasto, l'ecografia e la risonanza magnetica multiparimetrica consentono di scoprire la presenza di un carcinoma sul nascere ed agire tempestivamente, riducendo del 30% il tasso di mortalità. L'assoluto valore della prevenzione della diagnosi precoce, del carcinoma alla mammella, gli aspetti del percorso diagnostico multidisciplinare, chirurgico e terapeutico, il miglioramento delle tecniche chirurgiche sempre meno invasive, sono state al centro del convegno lo stato dell'arte nella diagnostica senologica che si è svolto a Napoli, a Villa Doria d'Angri, moderato e diretto dal dottor Carlo Varelli. Si torna a fare prevenzione, è veramente un grande piacere per me oggi ricominciare l'attività scientifico divulgativa della Health in Progress con il tema che a me è più caro, cioè quello della diagnostica senologica e della lotta al tumore della mammella. Quali sono i carcinomi che in questo momento incidono di più sulla popolazione femminile? Sicuramente in primis c'è proprio il carcinoma della mammella, è una patologia estremamente diffusa, ma quello che c'è di bello e quello che dico a tutte le mie pazienti è che è tanto frequente e tanto facilmente sconfiggibile. Oggi facendo una diagnosi precoce veramente si è in grado di cambiare radicalmente l'outcome della patologia mammaria. Purtroppo ancora oggi una donna su otto viene colpita da carcinoma mammario. L'obiettivo è quello di abbattere la mortalità di questa patologia e portarla a zero, individuando lesioni piccolissime sempre più in tempo. Così il professor Jacopo Nori, direttore della sezione di diagnostica senologica dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze e il professor Michelino De Laurentis, direttore del dipartimento di ricerca di nuovi percorsi diagnostici dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Individuare la lesione quando è molto piccola permette di fare interventi molto contenuti e permette di abbattere la mortalità. Questo è l'obiettivo della diagnosi tempestiva e di portare questa patologia a mortalità zero. Il 12% solamente delle donne che si ammalano di tumore della mammella è destinato a recidivare e quindi ad avere una malattia inguaribile. Questo 12% su 57.000 all'anno resta comunque un numero importante per il sistema sanitario nazionale. Quindi stiamo lavorando su questo per colmare questo gap e avvicinarci a quello che noi speriamo avvenga nel giro di un paio di decenni, cioè il 100% di guarigioni.